ciao bambini guardate cosa mi ha comprato papà le fatime del bosco non sono meravigliose sono bellissime hanno anche un bello anello ora cominciamo ad aprirle bambini ora possiamo aprire guardate che bella forse c'è un anellino ecco qua un bell'anello vedete cosa c'è dentro c'è il lucido labbra ora apriamo un'altra bambini c'è quella che dorme perfetto guardate che bella c'è un fiore che dorme con un fiore ora bambini non vi sono piaciute ora prendiamo il libricito e vediamo tutte le altre guardate quella che dorme quella che c'ho guardate qua ci sono tutte le fatine del bosco le devo ancora collezionare adesso aspetta c'è un anellino ecco qua un bel anello sarà fantastico ora cominciamo ad aprire bambini però non si può aprire bambini guardate come sono belle queste fatine le oroari hanno dei belli bellantini hanno dei belli colori l'azzurro e giallo gli anelli sono pure belli anche le fatine guardate bambini ora dico i loro nomi questa è milly e poi questa è emily e ora vi faccio vedere il libriccino guardate avete visto queste sono quelle che avevo ma queste non ce l'ho ma queste si però guardate bambini guardate c'ho questa c'ho questa c'ho questa c'ho questa c'ho questa bambini guardate io c'avevo questa però era rotta io questa pure ce l'avevo due uguali guardate qua ci sono tutte le fatine da collezionare guardate che belle guardate che belle io c'ho questa e poi questa tiriamo pagina guardate qua ci sono pure vedete c'è una bambina pure disegnata guardate guardate pure qua questa è la patina guardate questo è un gioco che lo dobbiamo fare guardate qua non ce ne sono più giochi finito bambini ora ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao